257 casi su 20.242 tamponi processati, tasso di positività all'1,26%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 20 novembre. I casi emersi dal report precedente erano stati 284 su 20.720 test con positività all'1,37%. Il totale dei contagi dal coronavirus emersi in Puglia sale a 277.262, di cui 3.946 attualmente positivi, 266.443 guariti e 6.873 deceduti. Per il secondo giorno consecutivo non è stato registrato alcun decesso, 135 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 122 sono i nuovi guariti. Salgono da 149 a 153 i pazienti ricoverati in area non critica, restano 16 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 60 casi emersi nel Foggiano. 49.013 è il totale dei pazienti registrati in Capitanata da inizio pandemia. 57 sono i nuovi positivi emersi nel Tarantino, 42.542 è il totale della zona ionica. Numeri simili nel Barese e nell'Eccese, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 50 e 44 nuovi positivi. 100.725 è il totale dell'area del capoluogo di regione, 32.694, quello della zona salentina. 22.041 è il dato complessivo del Brindisino, zona nella quale i nuovi positivi del 20 novembre sono 34. 15 sono infine i nuovi casi emerse nella Bat, un dato che porta il totale a 28.663. A chiudere il quadro è un residente fuori regione, 4.578.439 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.